Gentili telespettatori, buona giornata. Lo sfogo di Matteo Bassetti che parla di inciviltà e di antiscientifico. Che cosa dice Bassetti? Torna a farsi sentire il medico genovese, ex infettistar, oggi solo infettivologo genovese. I riflettori si sono spenti, non completamente, magari un giorno si riaccenderanno per qualcos'altro. Quindi Bassetti si fa sentire, ma non è contro i Novax, che continuano a perseguitarlo, e attenzione. Poi ad esempio le denunce contro di lui presentate all'ordine dei medici da 100 presunti medici, poi non si è mai scoperto se quei nomi nativi erano veramente nomi di medici, erano nomi messi a caso. Non si è mai capito. Ma in questo caso Bassetti punta il dito contro i tamponi in ospedale e lo fa all'indomani dello stop a tutte le leggi speciali anti-Covid sancito dal governo Meloni che dopo che l'OMS ha dichiarato la fine della pandemia, in Italia il governo ha dichiarato la fine di tutte le leggi speciali anti-Covid. E così il medico genovese del San Martino Campanaro, il suo sfogo social sul suo profilo Facebook dove dice che eliminate le leggi speciali Covid, spero si smetterà di fare i tamponi per screening. Mi pare abbastanza assurdo che ci siano ancora strutture pubbliche e private che chiedono l'obbligo del tampone a chi deve essere ricoverato o deve fare un esame. Cadendo tutte le norme come sono cadute ieri, mi auguro che cada anche tutta la burocrazia Covid e a cui alcuni dirigenti... Maron! Avete sentito che fulmine e che tuono? Questo è caduto proprio qui a pochi metri, eh? Ambedi che roba! Mamma mia! Comunque, sono spaventato ma sono rimasto perpless! Stavamo dicendo che Bassetti dice che eliminate le leggi speciali Covid, spero si smetterà di fare i tamponi, mi pare abbastanza assurdo che ci siano ancora strutture pubbliche e private che chiedono l'obbligo del tampone a chi deve essere ricoverato o fare un esame. Cadendo tutte le norme come sono cadute ieri, mi auguro che cada anche tutta la burocrazia Covid a cui alcuni dirigenti sanitari sono particolarmente affezionati e che è rimasta soprattutto per pararsi le spalle, dice Bassetti. E così poi aggiunge Chiudiamo definitivamente il tamponificio Italia. Bisogna smettere di fare tutti questi tamponi, questo è l'ultimo punto che dobbiamo far cadere. Reputo profondamente incivili e antiscientifiche le strutture e le regioni che costringono ancora i cittadini a fare i tamponi, conclude Bassetti, dove mette in dubbio l'utilità e l'attendibilità dei tamponi, ma questo lo aveva già fatto anche durante il Covid. Infatti non è una cosa nuova per Bassetti che già aveva raccontato proprio in passato. Bassetti si era fatto sentire anche ieri parlando di un disegno criminoso perché voi sapete quando si spengono i riflettori questi personaggi dicono ma ancora qualcuno mi chiama per qualche intervista, allora se mi chiamano le dico giù in maniera forte così magari c'è qualche altro giornale che mi chiama pure e così ho ancora qualche intervista. Cosa diceva Bassetti proprio? Ieri, dice proprio questo qua, intervistato da Il Riformista, dice che è la battaglia della scienza contro il virus dell'ignoranza, ecco quindi contro l'ignoranza, dice che c'è un disegno criminoso dietro, dice ho davvero difficoltà a comprendere, io curo le persone e spiego con la forza della scienza che si avvale di meta-analisi, come e perché una infezione viene curata, non posso credere che chi ne sa meno di me voglia denunciarmi, forte del fatto che ne sa meno di me. E' un paradosso, oggi abbiamo 15 miliardi di dosi somministrate, non si possono più avere dubbi, dice all'intervistato, probabilmente chi ce l'ha con me lo fa perché io sono stato abbastanza intransigente nelle mie posizioni, ci ho messo molto la faccia e l'ho fatto tanto in tv quanto sui social. Chi va contro il diritto si ostina a non riconoscere delle regole precise, ma non fa mai l'interesse della comunità. Quando si vogliono invertire le regole senza una base logica, tra chi mi ha denunciato c'è chi fino al 2019 non aveva mai neanche curato un'infezione. Sono veramente basito e preoccupato, dice Bassetti, la medicina ci ha consentito di vincere questa battaglia sul virus, ora conclude il primario del San Martino, va vinta quella sul riconoscimento del dato di realtà, che è la premessa perché una civiltà possa dialogare, conoscere, riconoscersi ed evolvere. Ma per come è oggi la società vediamo che i negazionisti ci sono su tutto, ci sono i negazionisti del covid, ci sono i negazionisti del clima, poi oggi ci sono questi due tipi di negazionisti che spesso coincidono, cioè il negazionista del covid è anche il negazionista del clima, domani ci sarà qualcos'altro e lo stesso negazionista del covid che oggi nega i cambiamenti climatici domani negherà qualcos'altro. Questa è una caratteristica di cui abbiamo parlato tante volte. Grazie a tutti per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Arrivederci a tutti e grazie. Ricordatevi Teleitalia Seconda Rete dove trovate video come questi che poi sono condivisi nella pagina di Facebook che si chiama Teleitalia. Grazie e arrivederci nuovamente a tutti.